Ciao ragazzi, eccomi tornata con un nuovo video e oggi facciamo un video su Sephora A fine della scorsa settimana è uscita Kat Von D nello shop online di Sephora Per quanto riguarda i negozi dovremmo aspettare adesso il prossimo weekend Quindi ci stiamo avvicinando Non potevo non fare un ordine Tra l'altro avevo anche un codice sconto del 20% Che ovviamente ho scoperto a fine carrello non valere su Kat Von D Molto bene Comunque ho ceduto perché ci tenevo tantissimo Sono tanto curiosa di molte cose di questo brand Ovviamente è comunque un brand ai costi Quindi non ho potuto prendere tutto Inizio intanto a far vedere la scatolina Che ho scelto la scatola regalo Non ho preso la classica quella nera e bianca di Sephora appunto Ma ho scelto questa qua turchese ed è troppo carina È veramente figa e tra l'altro sto pensando di usarla nella mia cassettiera di Alex Insomma come scatolina all'interno per dividere qualcosa È veramente figa All'interno c'era anche la cartolina appunto di Kat Von D E poi, stupida me Ho aggiunto anche il biglietto d'auguri Così Tipo buon non compleanno Però vabbè mi piace fare queste cose quando faccio i giorni online Che cosa ho preso? Tadam Vi mostro subito Ho messo il boomerang su Instagram Tutti mi hanno chiesto di chiedermi che presa Ora vedo se riesco a caricarlo appunto Già oggi stesso che mi è arrivato il pacco Al massimo l'avrete visto il giorno dopo Il pezzo forte Che sono Cioè che ero curiosissima di provare È in assoluto il fondotinta di Kat Von D Sto parlando del Lock It Questo qui è un fondotinta full coverage Che dura 24 ore Waterproof, no transfer Quindi insomma un fondo top Come sapete il matrimonio si avvicina E io ancora non avevo trovato il fondo della mia vita Con quello di MAC Ho preso una gran fregatura Poi insomma ve ne parlerò in un video dei flop Perché veramente ho buttato 35 euro con quel fondo Questo qua allo stesso modo viene 34 se non sbaglio Poi tutti quanti i prezzi vi lascio scritti L'unica cosa veramente complicata Essendo un brand americano comunque E non è come in Italia che ci sono 3 colorazioni per ogni fondotinta Ma c'erano una cosa tipo 30 colorazioni Con tutti i sottotoni Con 3000 colorazioni E deciderli online È veramente difficilissimo Oggi sono anche molto polemica Perché tra l'altro Ho visto che Sephora ha inviato delle box con prodotti Kat Von D A molti youtuber E io ho trovato due recensioni di youtuber italiani Su questo fondotinta Nient'altro E questa cosa un po' mi ha infastidito Vi dico la verità Alla fine per capire un pochino Solo andare a vedere le recensioni delle americane Mi ha detto Fortuna per non dire altro Che ho preso la tonalità Light 46 Cool Ho visto gli swatch online Ma appunto Dallo swatch è un po' complicato Mi ha detto Veramente fortuna Perché ha il colore Stra perfetto per me L'ho provato oggi E il resto Mentre parlo Vedrete l'applicazione Devo dire che Prima impressioni Assolutamente ottime Il fondo è abbastanza pastoso Quindi va lavorato piuttosto in fretta Come vedete Lo sto lavorando Con la Simil Beauty Blender La spugnetta di Real Technique Che è anche quella Un nuovo acquisto Mi ci sto trovando Veramente da Dio E va comunque Lavorato abbastanza in fretta Ma fa un effetto Veramente molto molto bello Al naturale Diciamo senza luci Tipo softbox Dunque luci artificiali Fa proprio un effetto Pelle di porcellana Pelle perfetta E è molto coprente Molto stratificabile Ha veramente un'alta coprenza Ma la cosa che mi piace È che addosso Cioè se tu sei davanti a me Non dici Mamma mia questa Che mascherone Assolutamente addosso Non fa spessore Non è pesante Sembra quasi appunto Un fondo naturale Sembra Sembra quasi Una contraddizione Per cui uno dice Come fa un fondo così Tanto coprente A sembrare naturale Non lo so Però obiettivamente è così Adesso come mi vedete Nel video Nel video fate conto Che ho solamente aggiunto Correttore E mi aveva anche Neutralizzato molto Le occhiaie E cipria E blush Non ho aggiunto Assolutamente nient'altro Ne parleremo Più avanti Per quanto riguarda Una vera e propria review Quindi con la durata E tutto quanto Però prima impressione Assolutamente ottima Tra l'altro Ci tengo a far vedere Il pack Che è un qualcosa Di Bellissimo Allora Il pack è questo qui E la cosa Più figa del mondo È questo tappino qui Con il logo Che si leva E da qui sotto Proprio c'è il dispenser Poi Per l'erogazione Del fondo Ed è Secondo me Veramente una figata Cioè È veramente Molto molto bello E il secondo afflisso Sempre di Kat Von D È il famosissimo Tattoo liner Cioè Diciamo chiaro Indecisa Se prendere La tinta labbra Lolita O L'eyeliner Però Ero talmente Tanto curiosa Di questo eyeliner E quindi Alla fine Ho ceduto Anche questo Adesso Lo vedete Mentre lo sto Applicando E la cosa Veramente Fighissima È che ha Una punta Super sottile Riuscita a fare Delle linee Veramente Finissime E Super scrivente Super nero Anche questo Dovrebbe essere Waterproof Su questo Punto di vista Insomma Ci aggiorneremo Più avanti Perché È la prima volta Che l'ho messo Quindi non vi so dire Nulla di più Ecco Il pack Delle liner È carinissimo Davvero Questa qui È la Ci sono due colorazioni Una è marrone Una è nero E questa E questa qua È la punta Cioè Vedete È veramente Finissima E infatti La cosa Figa È che potete Fare Linee Più Erte Insomma Più fine Super nero Super scrivente Assolutamente Bellissimo Infine Ultimo acquisto L'unico Che mi ha scontato Tra l'altro Con appunto La promo Ho preso Questa matita nera Proprio marcata Sephora Me l'avete consigliata In tantissime Che è appunto Una matita nera Waterproof Perché stavo proprio Cercando una tipologia Di prodotto del genere Anche questa Ve la faccio vedere Mentre la applico Tanto voglio dire Insomma Stavo già lì Sembra abbastanza Scrivente È veramente Molto nera Ed è completamente Opaca Ora staremo a vedere Se dura Se non cola Se è waterproof Davvero Quindi Su questi punti di vista Ovviamente Non ve lo posso dire ora E comunque Però come potete vedere È veramente Molto molto nera Inoltre ho potuto Scegliere Dei campioncini Uno Io giuro Mi fa troppo ridere Ve lo lascio per ultimo Il primo Ho scelto Un profumo Di Vassaloran Che però Non avevo capito Che era da uomo Quindi L'altro profumo Che ho scelto È Il nuovo Di Narciso Rodriguez Che mi piace Un sacco Quindi insomma Sono contentissima E poi C'era da poter scegliere Una Una mini Brow Pencil Di Benefit Capisco Che era mini Assolutamente È un campione omaggio Ma non avevo capito Che era Così mini Io non so Se voi riuscite a capire La dimensione Di questa matita È una cosa Tipo Troppo carina Ma Non so Nemmeno Se mai la userò Perché All'interno Si vede proprio Che c'è tipo Una punta di mina E basta Sembra tipo La matita Per le sopracciglia Delle Polly Pocket È veramente Un qualcosa Di minuscolo E niente ragazzi Questi erano i miei acquisti Appunto Che ho fatto online Da Sephora Spero di esservi stata utile Soprattutto magari Vedendo le varie applicazioni Sia del fondo Che delle lanere Proprio in generale Magari Dei nuovi prodotti Spero ci siano Altri codici sconti Perché C'è qualcos'altro Comunque Che mi piacerebbe provare Di Kat Von D Sono veramente Super contenta Che questo brand Sia arrivato in Italia E Non vedo anche l'ora Appunto Di vederlo Appunto Detto appunto 33 volte Non vedo anche l'ora Di proprio Sbocciarlo E vederlo Negli store fisici Quindi Spero che questo video Vi sia stato utile Vi sia piaciuto Vi abbia tenuto compagnia In tal caso Se vi va Lasciate un pollice in su Io vi mando un bacio E ci vediamo al prossimo video Ciao